giornate di dirette facebook siamo alla banca di credito cooperativo di arborea dove c'è stata una rapina a quanto pare rapina nelle prime ore del pomeriggio intorno alle 16 quando i dipendenti stavano per uscire dalla banca sono le prime immagini che abbiamo qui da arborea all'interno i dipendenti ancora qualche persona probabilmente le ultime che stavano usufruendo del servizio bancario all'interno ci sono già gli uomini della scientifica della polizia che stanno operando abbiamo chiesto al capo della squadra mobile il dottor samuele cavizzoso di darci qualche notizia ma le operazioni della polizia sono appena iniziate per cui non possiamo ancora dare nessuna raguaglio ecco gli uomini della scientifica buongiorno primi rilievi la polizia sta operando come detto ovviamente vige il più stretto riservo ancora su quanto successo alla banca di arborea non si hanno nessun tipo di dettaglio quanto possa ammontare il bottino di questa rapina ciò che certo è che uno o più uomini sono entrati nei locali della banca di arborea quando gli sportelli stavano per chiudere quindi intorno alle alle 16 la polizia fuori ai locali della polizia chiediamo scusa ok la polizia ci chiede di interrompere le riprese quindi riprenderemo tra poco